Gino Ruggeri nel 2012 si è coraggiosamente costituito parte civile in sostituzione del Comune di Cremona nel processo di primo grado a carico dei manager della raffineria Tamoil. La condanna per disastro ambientale è stata definitivamente confermata anche dalla Cassazione il 25 settembre scorso. In virtù di questa condanna il Comune ha potuto beneficiare di una provvisionale di un milione di euro disposta dal giudice Guido Salvini. Tale somma, dopo la conclusione del procedimento giudiziario è nella piena disponibilità dell'amministrazione comunale. L'azione fatta da Gino Ruggeri in surroga dell'amministrazione comunale è un'azione pienamente legittima nel contesto normativo che trae la sua origine dalla difesa che ogni cittadino può fare e deve fare degli interessi pubblici quando la pubblica amministrazione per svariate ragioni non si attiva. Un'azione che ha lasciato una traccia perché è un'azione che si vede poche volte fare nelle aule di giustizia ma che speriamo possa dare nuovi frutti e nuovi sviluppi a questa materia. Questo appello rivolto all'amministrazione nei confronti di una persona, di un militante civico che ha avuto il coraggio, la fede, l'abnegazione di porsi in dialettico contrasto nei confronti di una grande azienda, di un gigante e dopo una lunga vicenda giudiziaria ha avuto ragione e quindi lui ha rischiato personalmente il beneficio invece collettivo va al comune di Cremona quindi è un esempio da portare all'attenzione dei giovani, di tutti e quindi merita un incommio, merita un riconoscimento pubblico di valore. Il processo Tamoile è da tempo oggetto di approfondimenti anche a livello giurisprudenziale. La sentenza di cui stiamo parlando ha contribuito a dare una nuova svolta a quello che sono le sensibilità ambientalistiche e la necessità di regolamentare questo settore che ovviamente era stato un po' negletto da parte del legislatore ma è un un vecchio legislatore dagli anni trenta quindi questa problematica allora non si poneva. Ora il parere di alcuni presenti. Difficilmente si trovano persone che proprio arrischiano di proprio senza avere un secondo fine, senza avere nessun interesse. So che sono state date già medaglie d'oro a Cremona ma probabilmente con lo spirito diverso da quello che potrebbe essere questa medaglia d'oro. Ha dimostrato una cosa che noi spesso non consideriamo cioè il fatto che il cittadino semplice può se si sa organizzare se si sa muovere può smuovere tante cose. Questo è un apprezzamento che bisogna fare lui perché in questo modo lui sostanzialmente è riuscito a convincere anche l'ente e l'amministrazione comunale a proseguire su questa strada.